Vita ce n'è, sai ancora, l'amore che si rinnova, ripartiremo insieme, non c'è una direzione sola. Dopo tre anni Eros Ramazzotti torna con un nuovo album di inediti che si intitola Vita ce n'è, come il singolo che fa da prepista al nuovo album che uscirà alla fine di novembre. Il video è girato a Miami a un sapore cinematografico, mentre la canzone sembra già un classico di Ramazzotti. All'uscita dell'album, come tradizione, seguirà un tour mondiale, mentre la versione integrale di questo video verrà trasmessa da Rai 1 il 17 ottobre alle 20.30 e scopriremo che in Vita ce n'è, Eros Ramazzotti ci ha messo tutta la vita che vale la pena di essere vissuta. Eros Ramazzotti ci ha messo tutta la vita che vale la pena di essere vissuta. Eros Ramazzotti ci ha messo tutta la vita che vale la pena di essere vissuta. Eros Ramazzotti ci ha messo tutta la vita che vale la pena di essere vissuta. Eros Ramazzotti ci ha messo tutta la vita che vale la pena di essere vissuta. Eros Ramazzotti ci ha messo tutta la vita che vale la pena di essere vissuta. Eros Ramazzotti ci ha messo tutta la vita che vale la pena di essere vissuta. Eros Ramazzotti ci ha messo tutta la vita che vale la pena di essere vissuta. Grazie a tutti